Ma cosa volete? Alle volte vengono certi bie in testo. Si parte, credendo di fare chissà che cosa. Poi non si fa niente. Le cose vengono male, succede una cosa, poi un'altra. Qualche volta viene voglia di tornare a casa. Si dice alla fine del mese. Poi viene il mese appresso, un altro. Alla fine non c'è più coraggio di tornare. E allora perché hai fatto tanto per noi? Si, Franco, se non l'hai fatto per l'amicizia di David, per chi l'hai fatto? Per me? Perché? Ti sembra molto strano? Sei troppo buono. Proprio io devo raccontarti quello che hanno fatto di noi ragazze nei campi tedeschi. Dina. E quello che mi chiedeva quel brutto mi sembrò persino poco in confronto a quel barlume di speranza che mi offriva. Finalmente hai capito. Sei disgustato. E si leggi in faccia. No, Dina. Il passato non mi interessa. Già, ma sono i fatti che restano. David non capirà mai. Ecco. Dina. Grazie a tutti